C'è da fare i complimenti al Termoli che è venuto ad Avezzano a fare e a proporre calcio. Noi volevamo fare una partita e la squadra avversaria non ce l'ha permesso. Onore e merito alla squadra avversaria. Ero convinto che oggi sarebbe stata una partita difficile. Ero convinto che oggi sarebbe stata molto dura battere un Termoli da grandi calciatori, un Termoli di grande qualità, un Termoli di grande personalità, ma soprattutto un campionato dove non c'è una partita semplice e dove se non sei nella miglior giornata, e oggi non eravamo nella miglior giornata, è inutile girarci intorno, si rischia anche di poter perdere contro un avversario organizzato bene. Nel secondo tempo forse è mancato qualcosa dai cambi, dai subentrati? No, non è mancato nulla. I ragazzi hanno dato il massimo. Noi oggi avevamo delle difficoltà, avevamo alcune assenze importanti, avevamo dei giocatori acciaccati che poi purtroppo puntualmente ho dovuto sostituire. Ho provato a ricorrere a tutti i cambi della panchina per cercare di rimpolpare, di rinforzare, di dare muscoli e dinamismo, oltre che qualità in mezzo al campo, perché eravamo molto stanchi in un certo punto della partita. E perché noi dobbiamo ricordarci una cosa, che in questo campionato, soprattutto nel mio gruppo, soprattutto nel mio spogliatoio, quando non si può vincere la partita non si deve mai perdere. Non abbiamo fatto una buona partita, assolutissimamente. Qui l'ho appena detto, però ripeto, forse questa è la prima partita un pochettino sotto tono qui al De Marzi. Ci sta, ci può stare, assolutissimamente. conosco troppo bene il calcio e so. E avevo detto in pregara, nel pregara, che ero preoccupato, avevo detto nel pregara che era una partita trappola. Non mi sono sbagliato per niente. No, no, che psicologico. Stiamo vivendo un sogno, stiamo vivendo una classifica meravigliosa. Ci dispiace oggi non aver sciorinato quello che è la prestazione solita dell'Avezzano, ma ci sta, ci sta anche perché c'è un avversario di contro, ci sta perché un avversario ci ha preso subito le misure, ho schierato subito l'artiglieria pesante con le tre punte e non siamo mai riusciti a tirare in porta. Quindi sono stati bravi anche loro, c'è una squadra di fronte. Oggi, devo essere sincero, mi prendo questo punto, lo metto nel nostro programma di crescita. Questo, se non sbaglio, è il sesto risultato utile consecutivo, quindi faccio sempre i miei complimenti, ragazzi. Sì, come dicevo prima, i tuoi colleghi, prima della partita avrei firmato per il pari, però dopo la prestazione che abbiamo fatto meritavamo sicuramente noi tre punti. Però mi prendo di buono la prestazione, è il punto che comunque muove la classifica. Vabbè, sì, il primo tempo l'abbiamo fatto a grandissima intensità, ma non direi solo fisicamente, siamo stati superiori, anche nel gioco siamo stati bravi a rompere la loro prima pressione, siamo andati tante volte al tiro con fraseggi e devo dire che la prestazione è una prestazione superlativa dei miei ragazzi, hanno dimostrato avere grande coraggio perché non ci dimentichiamo che venivamo in casa della Capolista, una squadra che era tra le più informe del campionato e venire qui e palleggiare, come abbiamo fatto, non è da tutti. Quindi, ripeto, devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno dimostrato grande coraggio. Sì, loro devono dimostrare tutte le partite perché questo è il nostro lavoro, noi siamo sempre sotto esame, ogni partita è complicata e nasconde sempre delle insidie. Quindi noi siamo preparati a questo, il compito è mio di tenerli sempre sul pezzo durante la settimana e poi la domenica si vede il risultato del lavoro svolto durante la settimana con il mio staff. Ripeto, io devo fare solo complimenti ai miei ragazzi, sicuramente per come stiamo giocando non meritiamo l'ultima posizione in classifica, anche la fortuna non ci aiuta, ricordiamo a tutti che oggi abbiamo colpito anche due pali e quindi diciamo che dobbiamo avere un po' più di fortuna ma non solo in questa partita ma anche nelle altre.